Perché c'è un gruppo che ci piace troppo Il mitico genere Dark Oh, fai parlare in Dark, questo mi piace Parlare in Dark, io Il genero Dark Tu, è un'altra cosa, non c'entra con la pelle Tu devi pensare solo a Samba, Dance, lascia stare Dark, è un'altra cosa Questo è un gruppo che tra l'altro tu Alessia hai incontrato proprio ieri nell'anteprima Festival Bar Certo, io ho intervistati tra l'altro a proposito del Dark Corona è un genere musicale Ah, scusate Mi dicevano che con questo nuovo album Hanno cambiato un po' genere di suono, di sound E sono un pochino meno cupi del solito Devo dire che questo è un grande colpo del Festival Bar Perché con la canzone The Thirteenth Al Festival Bar ci sono i Cue Ah, ah, hello E questo è Fantastico E questo è un pochino 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 Un pochino Un grande applauso Per i mitici Oh, che serata ragazzi E allora dopo tutta questa musica Devo dire che sta cominciando I mitici con E questo è un pochino 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 È un pochino E questo 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 è un pochino